Finalmente buone notizie per la piaggia Aerospace di Villanova ad Albenga. Sono stati infatti firmati i contratti dell'area motori dedicati a ricambi e revisioni per un totale di 167 milioni di euro. L'accordo, come confermato dal commissario straordinario di Piaggio Vincenzo Nicastro nel corso di un incontro nella sede di Confindustria Savona, garantirà 4 anni di lavoro e consentirà, a partire da settembre, il rientro di 30 dipendenti attualmente in cassa integrazione. L'accordo è propedeutico alla commessa da parte del Governo di contatti per l'acquisto di 9 nuovi veivoli e di manutenzione sulla flotta del Ministero della Difesa. Una volta che sarà perfezionata è previsto un graduale riassorbimento degli operai e dei tecnici in cassa integrazione, nell'ordine di circa 100 unità al mese, fino al completo rientro dell'intera forza lavoro. Soddisfazione per la notizia è stata espressa dall'assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti. Per quanto riguarda invece i nuovi contatti di manutenzione motori con l'aeronautica militare italiana, il commissario Nicastro ha confermato alle organizzazioni sindacali che tali commesse sono alla firma delle parti e che la loro formalizzazione verrà ufficializzata a breve. Il commissario ha infine ricordato l'importanza degli ordini in ambito sia civile che militare, per un valore complessivo di circa 700 milioni di euro, confermati dal Ministero della Difesa.